Il nostro circolo nasce il 10 giugno del 1940, si chiamava prima Tennis Club Fabricone, a me piace sempre ricordarlo in questa maniera perché Fabricone era l'impianto industriale che era qui vicinissimo, infatti questo circolo nasce come il dopolavoro degli operari di questa grandissima industria fratese. Poi nel 1978 noi ci siamo trasformati con la chiusura dell'impianto e tutto e siamo diventati Tennis Club Bisencio. Il nostro circolo è il circolo più vecchio di Frato, è stato il primo circolo tennistico e da sempre svolgiamo un'attività formativa sia giovanile che veterana con corsi adulti e corsi SAT, scuola di estramento tennis. Siamo sempre stati legati alla Federazione Italiana Tennis, la nostra scuola ormai da tantissimi anni è abitualmente frequentata da circa 150 ragazzi. Da sempre abbiamo un'equip di maestri importantissima che in questo momento come si vede alle immagini capitanata da Taglia Frasca e da Claudio che con noi da tantissimi anni che insieme a Stefano Bonechi che è il direttore sportivo hanno costituito l'ossatura del circolo praticamente ormai da tantissimi anni e sotto di loro c'è un'equip veramente brava, in gamba. Grazie a tutti! Grazie a tutti!